Questi dati sono i dati dell'anno scorso, del 2010, quindi fotografano quella situazione. Ci sono state delle novità normative nel frattempo, nel senso che è intervenuto il Decreto Legislativo 116 del 2008 in ricepimento di una direttiva europea che ha facilitato l'ammissibilità di alcuni tratti alla balneazione. Per quanto riguarda il Comune di Salerno, noi già eravamo consci di questa situazione, è una situazione, ripeto, tutto sommato positiva perché abbiamo seguito già nel corso della stagione balneare 2010 l'andamento dei monitoraggi effettuati dall'ARPAC in modo rutinario. Naturalmente dovremo aspettare poi di conoscere man mano come evolve la situazione perché dal mese di aprile per competenze istituzionali l'ARPAC avvierà i nuovi campionamenti rutinari, quindi non escluso che alcuni tratti possano migliorare o altri addirittura peggiorare. Quali sono i tratti a Salerno off-limits? Non è un tratto off-limits, diciamo che la legge dà una nuova classificazione dei tratti e li definisce alcuni scarsi, buoni, sufficienti ed eccellenti. Noi abbiamo un unico punto dove la qualità delle acque è scarsa ed è praticamente il punto di campionamento a 200 metri a S della foce del fiume Irno. Naturalmente è comprensibile per quale motivo in quel punto la qualità sia scarsa, però abbiamo poi in altri tre punti qualità eccellente, in altri due punti la qualità è buona, addirittura abbiamo la qualità sufficiente nel tratto compreso tra il Forni e il Picentino in quanto l'anno scorso in alcuni periodi è stato interdetto alla balneazione ma poi è stato successivamente riammesso.